rispettare le diversità e trovare insieme la forza e non farsi la lotta fa schifo farsi la lotta, ma contro chi state combattendo manda che era partito di un frutteto la tua canzone e il tuo personaggio di Madagato no lo so, lo so però capisce io sono arrabbiata però sono arrabbiata con un sistema, un modo di combattere delle cose sbagliato per me, sbagliato, non è così io non trovo quegli uomini che siano stupiti e non penso di essere più intelligenti di qualcun altro